Morse, ma... Pronto, chi è? C'è la signorina Lucy Ah, sì, chi la desidera? E ditelo che sta salendo pene Eh, va bene Maghi! A che piano? No, quinto piano, senza ascensore TANDA IASPIN Ah, si ce la fa? Uè, ma tu si pazzasi Ma come ti è venuto un gatto E dice che c'è la cartura e non c'è Ma che ci sta di giù? Eh, si sarebbe un don da parte E' arrivata una buona notizia stamattina Ma è una buona notizia Stanno ancora la ditta E a male non sa' più come la tablatanetta Ma l'onorevole ruccolare sta Tanta gata è combinata No, no, non è combinata L'onorevole sta là dentro Anzi, comincia a prepararsi Mettete una bella condizione di muro in buco Un po' che tu dici Non è rete che ti ho spianato la strada Ah, come scusate voi? Sta salendo quello di rete 4 Ti cerca Rete 4? Per me? A chi? A chi? Non lo so, ha certo che si chiamano Fede Come? Come? In che cosa chiamano? Per me non ha G.P.I.T. Sfede Ma come potete vedere Guarda Si tratta di sordere l'offredo E l'onorevole di sinistra Uuuu E come faccio? Che ho detto Anche lui Questo sabato Non so, queste No, 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 no. Non so che preferire E fatto il b Moglista No, 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 no. Non so che tanto non so che ancora Anche io faccio una cosa che non me ne vado dalla testa tu guardami la sinistra mi raccomando va bene pur di lei c'è mia cazza mi faccio ma sei tutta parla mentale vengono vengono prego vengono vengono farmene questa anghezza oggi sbagliate quello piano eri un tuo piano e no la signorina russia è stata chiamata e tra poco sarà tra noi ah grazie grazie voi siete il cameriere purtroppo mi sono i vostri occhi eh ma come vi trovate in questa casa? posti vendendo tutte le vis e i feri e i feri vent'anni veramente in questa casa sto bene si si è come se fosse casa di vita io ci sono cresciuto in questa casa e lui per anni mi sei rimasto sempre da stessa e che volete? io sono attenzionato alle vecchie librerie ma mo ditemi un'altra cosa oggi ve lo prendo i maggio com'è che lavorate? com'è? ma adesso sta bene qui eh non vi preoccupate parlo con la signorina russia e va a farci fare una di peste ma che cosa? ma dopo la peste no 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 non ci scomandate proprio niente peste io voglio lavorare soprattutto il sabato primo maggio ma ci si si ma ci si ma spengo mi offre che non mi ruggire me favo o ma di un restaurant è a supride da c'è valuta feina feina e mi offedere di nome e il pifatto ma finalmente se è riluato ma non ci ho più come il canale la tesa vabbaccia la mia figlia la mia piccola la buferaia mi ha incendiato il mio cuore io stavo due per non venire perchè se è successo è imbarzato in parlamento non faccio mangiare tutto quanto a chi lo vuoi sei assopronto ma hai fatto benissimo potremmo fossi venuto assai ma se tu non c'aresti più venuto ma non mi faceva non venire io non c'ho la zuccavo il suo luogo e basta ma sei un andrillo da te da te immediatamente procurami un canale per l'orzio Arturo perchè è molto molto vebolo veloce veloce tanto veloce sai sto ospitando qui in casa con mio zio è molto malato lui soffre di crisi epilettiche e poi spesso si nervosisce all'ospedale ma la zina che doveva prendersi fuori di lui povera zia tristina non c'è più e allora lo sto ospitando io qui e in casa con me eh ma tu stai guardando morbidità andi veloce andi veloce andi veloce andi veloce e non c'è Lusi non devi essere così dure con i lavoratori bisogna essere morbidi ma amore lo so non morbida a tutti mi preferisci più morbida di tutti a più morbida di tutti a più morbida di qua eh eh per deformazione politica direi a sinistra però non porre pure la destra e lo c'entra Vieni i cuori e mi fanno baciare. Stai fermo, mi sembri un polico, anzi scudimi un po'. Come procedere dalla campagna elettorale? Come si posiziona la tua compaglia? I sondaggi? Cosa ci sono? Bene, bene, benissimo, siamo al 50%. Ancora al 50%. Ah, non per poco, eh, non sei ancora per poco. E allora, è bello che se sarà l'elettore di candidare allo spettacolo. E come no, te l'ho detto. Quando è vero in Marchese. E allora? E vabbè, scusate la tua compaglia. E come no? Ma tu sai televisione? Ah, ma che capito, so che io. Intendo dire, non mi faresti fare qualcosa in televisione? In televisione? E come no? E tu che vuoi fare Sanremo? E ti faccio fare Sanremo? Vuoi fare il telegiornale? Sì. E ti faccio fare il telegiornale se verrò rieletto. E appunto, e si sarà il rieletto. E allora fino a quel momento soltanto qualche spot pubblicitario potrò concedere. 30 secondi conclusi. Torniamo ad essere seri. Poi più lungo sarà lo spettacolo. E più attenzioni ti dedicherò. Più lungo sarà lo spettacolo. E più... E allora ti faccio fare un posto a scuola. E non potessi fare. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. E 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 vieni qua. Sembra. Per moroso. Non c'.. 跟你 sai. E' vericoloso. Ma c'è lo zio. Ma c'è lo zio. Ma tu non fai dipost Levi? Ognuno l'ha già spazzolato! Ma direi! Ma non me la botta a me! Come fai io? Non mi ha spazzolato! Uè! E quando l'hai fatto bene? E ogni volta in una maniera diversa! Ma come si può fare? La vino c'è a qui! Ma io non mi spieghi ancora! Come faccio io? Non mi fai così fatta! Non facevo tutto te! Ma va! I me la già mangià! Ma c'è la vino il ristorante! E qua! Intacca la cucina! Accusi stretta! Accusi piccola! Accusi che c'è un po' la rada! E qua! Ma ecco! Ma non c'è il secondo domenico! Ma hai fatto un problema! No, perché io non è più strano! Sicuramente! E qua! Ah! Ho capito! Se non c'è il magazzino chiuso, è venuto da casa niente! Ma non dovrei occupare! Se non c'è l'acqua prima n'arata! E se vuoi attrappare quello che vuoi trovare la pasta! Ah! Produttora! Produttora! E io! A già camminare! Mi devo promuovere! Non posso stare stretta! Qui nella stanza che... Io! E anche il bene va di tutto! C'è! Non mettere il bene! Vabbè! Ma che ci siete? Faccio tutto! A città! Da! Di! Do! Sì! Allora! Mi piaceva mettereci questo modo! Ma che bello! Pure tu lo siano buoni! Ma cosa sta succedendo? Ti amo! 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 Non mi piace, non mi piace. Io sono fatta un'antica. Come si riuscì? E' perché... E' perché... E' perché... E' perché... E' perché... E' perché... Ma che stanno le vada... Ma che l'uomo è la sua... E' un'altra cosa io! E' vero... Io sono a casa di mia sorella... E ho detto quando papà le piace... No, no, no... Ma io qua dentro sto spiegando... Un mio amico famoso della televisione... Madonna! E che nozione? E chi è che sta? Ma che è il pipopato? Il pipopato è qui... Anziano... Mica mia sorella se la fa con gli anziani... Sarà sicuramente un show... Bella... Sì, sì, sì... Sì... Una di cento vetri... Sì, sì... Ma c'è tutto... Come si chiama? Non mi ricordo... E' il capitale... Guarda, guarda, guarda... E' un peggenino! 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 E' un peggenino... Non mi ricordo... E' un peggenino! Esatto! Il rinato sta andando assù e fa ridi la santa cumbana e fa una fotografia e fa una fotografia e non penso male e va via! Bravi, bravi! Quando capita tutto il passo tu e tui e poi c'ho un po' da favore e qui dovete restare chiusi e dalla stanza perché se ne vado la mia barriera e poi ci deve mettere la mia barriera e tui se ne vado passano ai tuoi e allora io se ci finì ci chiamiamo, ci chiamiamo ci chiamiamo ma io ho letto ci chiamiamo e allora non vado ma tu e te non puoi io l'ho blocaro, la mia e te si è blocca a cadere e a me si è blocca a digestione ma vi vi più non vi piace che ero a me ha fatto figa però non puoi riuscire a uscire tu e te Dio mio padre mio che sento difficile ma non vi immaginare i soldaggi devono al 50% io ne in dubbio è un problema e ora non le pare Non mi vado a testa. No, 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 no. E poi se voglio che vado a sinistra, ecco. E il rubato, la vedici da parte. Mi sto accetta. No, aspetta, no, non mi accoglio da nessuno. Quando sarà il momento delle lezioni? Vedremo. Ecco qua, ci sta il calmante. Anzi, il sonnifero verrà tutto e questo parebbe addormentare con un tono ingufadito. Si, mi ha rimanato. Basti tu, se stanno preparando per legiferare o vuoi fare l'orcellum? D'alte, è un po' poco spiritoso. Mi ci ha detto che quelli... che quelli non c'erano. Quello di me lo conosce, come fate sempre salta. Che faccello che lo conosce? D'altro, quando devo fare le lecce a mezzo, quello lo può dare sempre in fondo a testa. Ma, ma lo stesso che fa come bello, che si? Ah, no, se un po' allegro, è un po' che brilla, eh. Ma se no, come affrontavo sta situazione? E' un po' che tu puoi scorsata a tempo e ti stai notando in un connello a imbuto. Ma hai scendito che qui sono lì? Che stanno sempre in giro? Che piacciono di allora o no, l'arte? E tu puoi facci quanto tale? Come sono intelligenti colti? Devo usare un linguaggio al proprio anno. Cosa pensa, Arturo? Non parlerò, codo. E la gentile spiega se a me divina da. Che mi devi fare? Eh, eh, lo sapevi, ma il monante è il salvatore della patria. Ma lui, se sapete quanto è che tua e tua sorella è andata a fare un viaggio lungo, 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 lungo per il mondo. Anzi, anche all'altro mondo non sarebbe una fatica. E adesso, lasciami pensare con quel poco di lume che mi è rimasto che ha chiuso lungato dai capicciatori muzzoni e cannello. Luzzi, dove sei? Vieni tu da me? O vengo io da te? Alfie, vengo subito io da te. Un momento in fine arrivo. Ahimè, ahimè, che ci faccio da solo qui. Aspetta, aspetta, un secondo io che sarò tutta tua. Date, date giù mi dentro, altrimenti mi costruisco a andare in commissione a farmi il bipolarismo. Ho trovato, ho trovato, senta, siamo così. Ho risostituito, eh, sostituato alla moglie di tuo fratello con la bombessa Quattro Occhi. E Arturo lo sostituivo con Bartolo e Cuscote. Con Bartolo? Guarda, la bombessa mi va pure bene che diceva fare un bello figurone. Ma guarda, Bartreci, ignorando Arturo, ma io solo dirà a chi le pot parlerò con voi. Ma hai ragione di non essere la mia propria bucca. Diciamo che è muto. Bravo, ma tu sei geniale che il mio cognato premmi. Mi ha visto vado su me a vedere se se sono da cose, capisco? Ma raccomando, eh, perché non ti dà? La re è sistemata. La sinistra, oppure, poi, ma non mi resta ampio che si sembrano Arturo e non c'è solo me. Arturo, ma non c'è fina l'aperitivo! Grazie! 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 Sì, dove sei? Vieni da perché non mi sento bene! Ho bisogno del tuo intervento, delle tue cure! Ma no, è chi se siete? Ho zia pazza! E' l'asciutto, è meglio come una fuoco, è meglio come una scolla! E' l'asciutto, dove sei? E qui c'è il lupo cazzio che ti cerca! Dove ti stai nascondendo? Lo sai che non mi piacciono questi giochetti? E' il più di un'ora che ti cerco! Lo stai facendo un po' pesco sotto il gatto! E se mi vede qualcuno? Cosa pagherebbero per vedermi in questa situazione? Ma in certi casi è meglio la fuga! Venga! Venga, venga! Allora ci siamo spiegati tutto chiaro, mi raccomando! E tu, Erwin, sono sicuro che farai la tua più grande interventazione! Ma come si permette? Mi dite per lei! Ma che cos'è tutta questa confidenza? Nuova che Guai? Ma lo esiste che te la vuoi dei tuoi! Ma iniziste? Ma sciolchino! Ma non vedi che già sono entrato nella parte e ce l'ha avuta la treluce! Ma la parte è fuocciolo! Eh, mia cara, scusami tanto, mi sono stati perdonati, io non l'avevo capito, eh, guarda! Eh, eh, ragazzo lo stai domandogli a me? Eh, oh, mettevi da interrogare! Ma poi ti sei dimenticato? Tu sei muto, non devi rifiatare! Hai scoperto, lui, la tua lunga generazione di custodi finisce qua, provati definitivamente! E' un po', ogni tanto casomai fai qualche gesto per far capire, hai capito? Hai capito? Hai capito, però che vuoi? Hanno messo privati un in così gioco, eh! Anche, un loro figlio! Ah, no, ma qui c'è l'ha detto che hai messo a pagare tutto che hai gestito! Ma che cazzo è che non c'è nessuno! Avevi aspettato il cazzo! Oh, eh! Poverta tu! Bene, non c'è nessuno gioco! Oh, non c'è nessuno! Ah, ma che c'è nessuno gioco! Ah, Mala, che c'è nessuno gioco? E se vuoi c'è nessuno gioco! Ma che c'è nessuno gioco? E se vuoi c'è nessuno gioco? Non c'è nessuno gioco, non c'è nessuno gioco! Ma, guarda la cosa! Ma che ti sei mese tu? Ma, qua! Pagno! Ah, ma che senzio? Ma come, in che senzio? come l'arturo in teoria dovrebbe essere uno ritorno in teoria e invece se vesteva così come un pezzetto ma guarda dottor, ma così mortificato però ah, io chissà te Natale, Capodanno e Pasqua anzi chissà quello vestito buone quando sei sposato mia sorella tua sorella Veronica come si è sposato dieci anni fa? appunto chissà vestite tenere dieci anni e tu dite che andate a dieci anni di coppio e chile non lo votevo ma coppio e chile sì, ma non è che d'allungato non è che d'allungato, ma non è che d'allungato a me così mi piace la tua, la sua e di me, ma a me non c'è una cosa più importante ma vuoi saperti di personaggio? eh, tu d'avessi a dirare ah, dottor, dottor, ma quando perdi un personaggio ti chiedi, non ho posto, non ho capito non ho chiesto a giù, fiscati, ha già uscito la macchina dottor, mi chiedi, non ho capito ma non ho capito, ma non ho capito ma hai da un piede? non ho posto la macchina ecchi te qua, te la ceretti standare mi hai assolutamente dovete andare a nascondervi nel bagno no, io in bagno con un uomo, già mai ah, dottor, il taso, non lo sto qua rossi ah, dottor, e tutto questo a me non lo adalice e lo pesa troppo rosso con me Ma che cosa? Quello ha detto Rosso, mi dai che scopo! Ecco a te, ma con te hai ragione che io non posso sapere il tuo personaggio. Comunque, ti aspettano in voce. E' un'occasione migliore per conoscersi in intimità, per scoprirsi. E' un'occasione migliore per conoscerli. E' un'occasione migliore per conoscerli. Ma un'occasione migliore per noi. C'è un'occasione migliore per noi, Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.